in partenza partiti in vantaggio lungo la corda Chianalea con a centro pista Torchlight con a largo ancora Enta Omri al ridosso dei primi anche è partito bene Harry Tanglory in linea con i primi poi segue a largo Raipan e Just Do It in seconda linea Light Up My Dream lungo la corda seguono anche Tyne Douglas e Midnight Talker siamo a 350 dal palo in leggero vantaggio Emta Omri nei confronti di Torchlight a largo Raipan per linee interne anche Harry Tanglory nel tratto finale Emta Omri leggero vantaggio su Raipan quindi anche Tyne Douglas nel finale è Emta Omri che si impone mentre per il secondo posto sono vicinissimi Time to Douglas Raipan e anche Torchlight e Globos che è finito molto bene all'esterno dobbiamo andare a rivedere il tutto con la bella affermazione di Emta Omri e Claudio Colombi in sella che si è imposto nel finale mantenendo la meglio mentre per il secondo posto sono vicini dobbiamo rivedere bene le immagini che con Raipan attaccato all'interno da Torchlight e tra i due si è impilato Tyne Douglas rivediamo il rallenty con la facile affermazione di Emta Omri numero 3 dello schieramento mentre per il posto d'onore sembra che probabilmente Tyne Douglas abbia preso il sopravvento su Raipan e Torchlight vicinissimi per il terzo posto quindi al primo posto il numero 3 per i di altre posizioni è consigliabile aspettare il risponso del giudice di arrivo